... Fai il zig di andare a vedere prima se è percorribile, è inutile che andiamo tutti. Capito? Eh? Chiedigli prima di verificare se è percorribile perché si finisce lo capo. Paolo fatti una camminata e vedi se è percorribile. Lo facciamo? Mi vedo male. Mi vedo nel canale. Scusate, butti la moto nelle frasi e poi tu vedi la... ... 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